Due saranno le proiezioni quotidiane al Teatro d'Annunzio dal 26 giugno al 1 luglio dalle ore 20 alle ore 22.45 in programma per la cinquantesima edizione del Flaiano Film Festival diretto da Riccardo Milani. Flaiano è stato un riferimento ed è un riferimento per me, per tutta la cinematografia italiana e per la letteratura italiana. Flaiano è una persona che ha avuto un italiano, che ha messo in luce pregi e tanti difetti del suo paese, ma l'ha fatto con affetto, con ironia e anche con la capacità di guardare anche oltre. L'edizione 2023 ha visto un'importante collaborazione con la Cineteca di Bologna e il Centro Sperimentale di Cinematografia Cineteca Nazionale. L'Abruzzo si avvia ad aprire un'altra stagione culturale non solo con l'istituzione della Film Commission, che in altre regioni rappresenta già una realtà sedimentata. È una necessità, io lo dico adesso al di là del fatto che abbia la residenza a Pesca a Seroli, chiunque si accosti a questo mestiere e a questa regione capisce quanto possano convivere questo mestiere, che è quello del cinema e questa regione, per luoghi, per territori, per cultura, per storia, per gente, per persone, per professionalità e penso che anche solo considerando l'aspetto economico questo sia un motivo in più per spingere adesso, subito, sulla formazione della Film Commission. Un programma ricco che vedrà le proiezioni di film come I vitelloni di Federico Fellini, Il primo giorno della mia vita di Paolo Genovese, Il segno di Venere, di Dino Risi e tanti altri. Il lettore artistico ha fatto una scelta, secondo me, importante, dettata anche dal fatto di riportare le persone in sala, questa è una cosa a cui teniamo tantissimo. Ci saranno film contemporanei in prima serata e poi in seconda serata, le 22.45, mi sembra giusto un omaggio ad Ennio Flaiano. Vedremo i film di Ennio Flaiano in cui è sceneggiatore anche soggettista ed è un, non è soltanto un omaggio, ma è evidentemente una indicazione che il direttore artistico vuole dare a tutti della grandezza e della straordinarietà di questo sceneggiatore. Marcello, come here, hurry up!